Allora, 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 oh, ancora ci abbiamo Squad Busters qui installato, serio? Oh my god! Allora ragazzi, io sono Martex, bentornati su Squad Busters! Allora, 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 belli miei, un pollicione all'insù perché tale video non verrà visualizzato da neppure lo 0,0000001% di tutti gli iscritti al canale, Ma comunque sia, noi siamo qui perché se facessimi video solamente per le visualizzazioni ragazzi miei avrei già smesso da tanto, tanto, tanto tempo Quindi apprezzate e ho letto quello che mi avete scritto in live, Martex, join us Squad Busters perché stanno regalando un sacco di cosette Ora i mega personaggi sono delle skin, wow! Inoltre abbiamo rimosso gli oggetti da battaglia dal gioco Che cosa intende? Che cosa intende? Skin sbloccata? Shelley, utilizziamola Sì, sì, a me gusta Facciamo pure evolvere, perché no? Ragazzi avevo 3000 monete e ne ho 61.000 adesso No, ditemi che l'avete visto È il tigre fighissimo ragazzi, bello Però, perché questa modifica? Cioè adesso i mega personaggi sono delle skin, come mai? Ok, ok, ok Torniamo indietro Mi dite alla vostra Madò, 57.600 monete ci han regalato Mi dite alla vostra ragazzi Perché se ne han detto? Però sto, sto cavo comincia a dare i numeri, eh Vorrei avere un feedback da parte vostra qua sotto nei commenti Ma come lo vedete questo gioco? Cioè sta andando seriamente Oppure è ancora vivo Nuovo aggiornamento Dai un'occhiata alle novità in arrivo Vabbè Oh, Transformers Damn, che cosa mi indica lì? Il dito dice clicca qui Clicca qui, vediamo Squadra annientata Che cosa posso fare? Reazione automatica Scegli quale reazione far apparire in questa occasione LOL Ok Quando annienta una squadra praticamente Vai Il Goblin che fa la pernacchietta Sì Ora facendo evolvere i personaggi Potrai aprire bauli stellari Va bene Eh ma qui Stanno implementando un po' di cosette Comunque è bellina questa saletta delle galline Ragazzi stanno implementando un po' di cose Perché vogliono attrarre il baule Il pack opening Attira C'è tanto occhio qui Sblocca il baule Vai Che cosa accade? Tocca a me? Ma tocca seriamente a me? Con la chiave magica qui Delle superchicche Andiamo? Vai Oh Ehi Oh Let's go Infila sta chiave Ora però dammi il mondo Lo sapevo che mi davano qualcosa ragazzi Da quant'è che non loggo È ovvio È ovvio Dobbiamo allettare Questi nuovi utenti Il loro comeback Un altro No non ce n'ho più Ma ragazzi ma per quanto ne abbiamo sbloccati Mannaggia a loro Mannaggia Qui non riesco mai a farlo Vabbè tara Nuo evento Accumula l'energon Apri i bauli Sblocca e fai evolvere Optimus Prime Ma davvero? Ma state scherzando? Ma che figata? Ok Apriamo questo Uh Abbiamo un po' di cosette Nice 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 Allora poi Abbiamo lui Ma io comunque non ho toccato niente C'ho tutte ste robe da upgradare Ok Perfetto Mi sa che apriamo un altro baule stellare Eh dai Finalmente ci sta qualcosina ragazzi Una sorta di ricompensa extra Con il nostro upgrade No aspetta C'è più 20 Uh Ragazzi prima volta Andiamo con Greg Super Let's go Va bene Abbiamo da ritirare un baule Qui non c'è più nulla No invece c'è la strega Ok E la regina degli arcieri Oh sembra che comunque sia Almeno sono nel menu principale Non sto giocando È carino Abbiamo pure Penny Baby Che fai? Non te lo ri... Stiamo sbloccando il mondo oggi ragazzi Stiamo seriamente sbloccando il mondo Pacchetto reazioni Non mi interessa 20.000 gem E monete Scusate All right All right Il martellino pure lì Ben presente Va bene Va bene Va bene Grazie Ok Ok Ragazzi Non ci sto più capendo nulla Non ci sto capendo niente Ok Vai 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 Stiamo riscazzando tutto quello che c'è da riscazzare raga E credo che siamo andati avanti a sto punto Infatti Ragazzi Il libro lì è andato avanti Grandissimo Let's go Quanti Quanti Io oddio quanti bauli stellari gratuiti ragazzi miei Io stavo facendo la fame lì A riscattarmene uno con i vari upgrade Andiamo Mio dio ma questo è un video No è esagerato sto video ragazzi Ma qui dovreste proprio far fioccare i pollicioni all'insù Ma che cosa vi chiedo ragazzi Un semplicissimo like No ma questo è il video più bello di tutto squadbusters Mio dio Gratuito Regalo per l'aggiornamento Vabbè andiamo qui Uh Mamma mia Eh tocca 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 Mado Spettacolo Andiamo Ragazzi non è finita qui Non è finita qui Allora Apri otto bauli per ottenere un personaggio ultra garantito Ed un'evoluzione ancora migliore Ok andiamo Qualcuno mi spiega i vari click che senta a livello di audio Che cosa significano Ma è la seconda super oggi Va bene Grazie Oh mio dio Ok sblocca il baule 500 adesso Eh però caro mio caro mio caro mio Io ti vado incontro Così Ragazzi miei Il codico creatore Il codico creatore Il codice creatore qui ancora non ce l'hanno abilitato Però io vorrei spingere qui Supercell per favore attivaci sto Codice creatore dannazione Mannaggia oh non chiediamo altro Que che cos'è Ma tutto gratis raga Ma è tutto gratis in sto gioco ormai Vai Prendiamo questo Torniamo un attimino indietro No voglio farlo Voglio farlo Baule transformers Apri il baule Primissima volta Optimus Prime T'aspetto Oh Vai Oh Let's go No Ditemi che non era garantito Ditemi che non lo era Optimus Prime Baby Un difensore enorme Grande tanto quanto un'unità fusa Bellissimo Mamma mia No raga Io queste credo che le vado Allora sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ne vado ad aprire uno Ma chi ce frega ragazzi Ma apriamoceli tutti va Ragazzi miei lo faccio per voi Seriamente un bel pollicione All'insù Condividete dalle video con tutti i vostri amici 3 2 1 via Vai Anche perché Ok 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 Qui la cosa si fa intrigante Perché leggete bene in basso a destra No Non me lo da più Mancano 4 bauli E sblocco una skin ultra Un personaggio ultra Vai super chicca Ok Pure qui mi sa che c'è qualcosina Ma ragazzi ma che è Ma che sta succedendo Vai ancora Vai 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 Buono Ci siamo Però ancora l'ultra non ce l'ha data eh Perché mi sa che quella vale solamente con l'evoluzione Che cos'era quello Che cos'era Ultra Let's go Mamma mia Re barbaro epico ragazzi miei Nuova abilità sbloccata Metta a disposizione un incantesimo super furia Let's go Guarda quanto è bello ultra Guarda già uno Va bene Tre stelle Questa è una super Ok va bene va bene Ma abbiamo avuto la ultra Non ci interessa Dai sto scherzando Andiamo 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 Che so due stelle Tre stelle Una stella Nuo personaggio Stregone Nice Dai Bellissimo ragazzi miei Ultimo baule Abbiamo spaccato il gioco Senza giocarlo ragazzi Andiamo Vai Ok una stella Dai Mamma mia Nuo personaggio Domatore di cinghiare Ma che bello ragazzi Quante cosette Mio dio che cosa non abbiamo fatto raga No non è non è barbara Il re barbara Guarda quanto nuovo 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 Ragazzi abbiamo sbloccato sei personaggi Ragazzi che spettacolo Mi so divertito troppo Speriamo di divertirci pure in sta partitozza Cominciamo con Pam dai Pam non l'ho mai utilizzata qui Dai piccolina vai Andiamo con colt E sui colt mi piace Devo farmi sta squad per bene Dai Goblin Andiamo di goblin Facciamo schifo con questi goblin Dai Però mi serve un mercante Dannazione Ho il bug Ho la generazione Infinita Delle monete e delle gemme Non mi esce più un mercante ragazzi Dai mercante Ragazzi sono settimo eh Tra l'altro vi ricordo che è una bella streak Da mantenere E sicuramente la perderò Saliamo con le monete Almeno ragazzi miei Le scambiamo Non le scambiamo Ma comunque si aumentano con le gemme Mercante e goblin È la mia combo preferita ragazzi Anche se non la uso moltissimo Oh mio di che è quella roba Ma che cosa Mi ha distrutto Ma dopo ho perso Con 136 gemme Ragazzi ma vi tryhardate Non lo so Ma scusate Se vado a killare quel boss Che cos'è che mi dà Mio dio Oh bello che fa a vedere Il viaggio nel mondo E quindi il libro A fine partita Prima non lo faceva Spero ovviamente Che dalla video sia stato Di vostro credimento Ripeto mi dispiace Che è squad buster Se sia poco seguito Ma però È carino È carino da portare Piacevole da giocare Purtroppo ci sono Un bel po' di tryardoni Però non fa niente Noi concludiamo così Con questo baule epico Ci becchiamo al prossimo videozzo Appressissimo Ragazzotti miei Se ancora non siete iscritti Distruggete il bottoncino rosso Qua sotto E quindi il tasto Iscriviti E come al solito Un bel Ciao Brothers A presto 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 A presto